Contro il caro carburanti a partire dal primo marzo tornano gli incentivi per dotare l'auto di un impianto a GPL o metano, un'opportunità per contrastare i prezzi record di benzina verde e gasolio che oggi sfiorano quasi 2 euro al litro e ridurre allo stesso tempo l'emissione di sostanze inquinanti nell'aria. Le agevolazioni sono previste per autovetture private immatricolate dopo il primo gennaio 1997 di persone fisiche e giuridiche residenti a Napoli o nei comuni che hanno aderito all'iniziativa carburanti a basso impatto e danno diritto a un contributo di 500 euro per l'installazione di un impianto GPL o 650 euro se dalla benzina si passa al metano. Stesse condizioni valgono per la trasformazione dei veicoli commerciali leggeri con un peso inferiore alle 3,5 tonnellate e che siano di proprietà dell'impresa o utilizzati in leasing. In questo caso lo sgravio di 750 euro per la trasformazione da benzina GPL e 1000 per il metano. La procedura per ottenere gli incentivi è semplice. Dal 1 marzo bisogna prenotare l'installazione del nuovo impianto presso una delle officine che aderiscono all'iniziativa, consultabili sul sito www.ecogas.it e il contributo sarà detratto in fattura dal prezzo di listino. L'assessore comunale alla mobilità, Anna Donati, ha ribadito la convenienza non soltanto economica degli incentivi che incidono anche sul piano della tutela ambientale e invita i cittadini interessati a recarsi quanto prima presso le officine autorizzate vista la disponibilità limitata dei fondi a disposizione.